perciò il video non sto prendendo i video, è vero? come? non sto riprendendo, è vero? video, video no, sto prendendo venga dai 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 Ehi, un cappello. Ehi, un cappello. Ehi, un cappello. Gatti, dai, dai. Questo qua. Cappelli prendi capelli. Vai con quello che si fa con capelli. Gira con quello qua. Ah, lo, con la curva che si. Puede, puede, puede. Ok. 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 ancora ciao notizie 20 a torino 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 ciao notizie 20 torino ciao notizie 20 torino dai ciao news event turin turin così con le spizioni vi aspettiamo il sito news event turin vi aspettiamo cosa devo dire che chiamo il sito news event turin ok vi aspettiamo sul sito news event turin non capisce niente vi aspettiamo il sito news event turin ok vi aspettiamo sul sito news event turin ok adesso ballo un po' 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 Matta!